Sarà Rezzo per la prima volta ad ospitare le Final Four di Coppa Toscana che si svolgeranno sabato 4 e domenica 5 gennaio al Palasport Estra. Proveranno diverse squadre a livello toscano, le migliori squadre che hanno vinto tutti i gironi che si fanno a inizio campionato, quindi alla fine si affrontano sia il basket maschile che il basket femminile, di alti livelli, sia di Cigold per quanto riguarda i maschile e di Serie D per quanto riguarda il femminile. Ci sono squadre che sono tutt'oggi in testa alle classifiche, quindi ovviamente sarà una battaglia durissima. La fortuna ha voluto che, o meglio il lavoro ha voluto che sia stato scelto a Rezzo come sede di queste finali. Noi siamo più che orgogliosi di aver fatto questo perché credo sia la prima volta e ci abbiamo messo tutta la forza possibile, quindi è un punto di orgoglio che anche a livello federativo ci sia un'attenzione verso a Rezzo per la Palacanestro. È un attestato, è un riconoscimento dell'attività che questa società porta avanti da anni, è l'evento di punta dell'attività cestistica regionale ed averlo portato ad Arezzo è un motivo di soddisfazione per noi come comitato regionale ed è appunto il giusto riconoscimento al lavoro fatto dalla SBA in questi anni. L'impianto Aretino è stato scelto per i trofei che riguarderanno la Serie C maschile e la Serie B femminile intitolati alla memoria di Alfredo Piperno e Lorenzo Lunghi. Ci sono quattro squadre che si sono qualificate per la Serie C maschile, oltre a l'Amen Scuola Basket Arezzo c'è la CEA Siena, Cantini Lorano Firenze e Spezza Basket Club. Per quanto riguarda invece il femminile c'è Palagiaccio Firenze, Castellani Pontedera, Named San Giovanni Valdarno e poi la Lemura Spring Lucca. Queste sono le squadre che si contenderanno il trofeo, noi siamo presenti per il secondo anno consecutivo, abbiamo avuto l'onore di organizzarle, quindi proveremo a fare il massimo possibile per ottenere questo trofeo. Le partite si disputeranno al palestra Mario D'Agata sabato 4, domenica 5 gennaio, a partire dalle 3 sabato fino alle 21, orario in cui giocherà la nostra squadra, la squadra basket Arezzo contro la Virtus Siena, l'ingresso alle partite è gratuito, quindi invitiamo tutti a venire alle partite. Le finali ci saranno invece domenica 5, alle 16 quella per la serie B femminile e alle 18 la serie C maschile. Cosa vi aspettate per la mia scuola basket? I ragazzi si sono preparati molto, già per noi è un ottimo risultato esserci, tra l'altro siamo l'unica squadra tra le quattro maschili che per due anni consecutivi si qualifica a queste finali dove sono partite sia le squadre di C-Gold che quelle di C-Silver. L'anno scorso perdemmo in semifinale ma eravamo diciamo una categoria sotto, abbiamo un avversario molto difficile, la Virtus Siena, però insomma proviamo a giocarci le carte e speriamo anche nel rapporto del nostro pubblico per darci una marcia in più in queste partite.